Nicetto, c'è un collarino. Nicetto, sono già uscita varie volte a portagli da mangiare ma rifiuta ogni forma di aiuto e scappa. Ora ho finito di lavare questa parte, è venuto quel gattino, deve essere di qualcuno che lo lascia uscire, penso, anche perché non ha fame, ogni volta che esco col piatto mi scappa, poi nemmeno mi guarda, come se fosse sordo, non lo so, non sente alcun richiamo. Loro logicamente quando lo vedono, vero? Chi è Arianna? Chi è? Ehi! Manco si gira. Bello! Non risponde, non è alcun tipo di reclamo. Guardate quanta cacca abbiamo raccolto in questo istante. Guardate qua, quattro chili di cacca, appena rastrellati. Sta piovendo, sta arrivando la pioggia. Che cavolo guarda sto gattino? Che cavolo sta guardando sto gattino? Cosa? Là. Chi è? Guarda, c'è fatto. Minchia con quelli occhi. Sì. Dove sono? Quelli là, vado io. Devo chiudere la piscina prima, perché si stava riempendo. Guardate che cacchina, stiamo volando tutti.